Eccoci ragazzi bentornati sul mio canale, nuovo appuntamento con le notizie tech per quanto riguarda il mondo Apple Oggi cercheremo di fare un attimo il punto della situazione, il punto di vista sulla questione dove andrà installato iOS 18 e su quali dispositivi avremo anche le funzionalità più avanzate di intelligenza artificiale perché ne ha parlato proprio in queste ore Mark Gurman di Bloomberg e poi è stato riportato un elenco di oltre 20 funzionalità che a quanto pare dovremo vedere all'interno di iOS 18 addirittura arriveremo quasi a 25 funzionalità, quindi non ci perdiamo in chiacchiere mettetevi comodi, allacciate le cinture, un bel mi piace ed iscrivetevi per tanti nuovi appuntamenti vi ricordo prima di iniziare lo sponsor del video è Nebba, trovate il link in descrizione ogni acquisto che farete sul sito passando dai link in descrizione supportere del mio canale dai videogiochi nuovi ai videogiochi del passato, alle gift card, agli abbonamenti e ancora se non l'avete fatto iscrivetevi sul mio canale dell'offerta di Telegram dove troverete tantissimi sconti giornalieri vi ricordo anche se non trovate una qualcosa di vostro piacimento vi basterà cliccare su uno di link affiliato cercate il prodotto su Amazon, aggiungete nel carello e anche in quel modo mi supporterete ma non ci perdiamo troppo in chiacchiere facendo subito il punto della situazione sulla questione iOS 18 che a quanto pare si dovrebbe installare da quello che si è capito e da quanto ha detto anche la stessa Apple sugli stessi dispositivi che appunto avevano la possibilità di installare iOS 18 mi sono preso proprio l'elenco quindi iPhone SE sia quello di seconda che di terza generazione l'iPhone XR, l'iPhone XS e quello Max l'iPhone 11 il Pro e il Pro Max il 12 il Mini il Pro e il Pro Max il 13 il Mini il Pro e il Pro Max il 14 il Plus il Pro e il Pro Max il 15 Plus Pro e Pro Max questi a quanto pare saranno i dispositivi ragazzi compatibili con iOS 18 salvo cambiamenti dell'ultima ora ma voi mi direte adesso ma invece se grosse funzionalità di intelligenza artificiale di cui amante ci parli da giorni e da settimane dove arriveranno? allora secondo Mark Gurman di Bloomberg avremo questa situazione inizialmente l'intelligenza artificiale avrà delle funzionalità base che appunto verranno elaborate proprio dal dispositivo quindi proprio dall'iPhone poi ci sarà un secondo step dove gran parte delle funzionalità più avanzate invece dovranno collaborare, comunicare e trasmettere informazioni invece con i server di Apple secondo Mark Gurman ci sarà una rivisitazione un redesign proprio di Siri che sarà proprio riprogettato con intelligenza artificiale e secondo il suo report dice che potrà aprire documenti organizzare le note in cartella eliminare un'email, riassumere un articolo inviare i link via web e tanto altro ancora ed inoltre secondo le sue informazioni le funzionalità di intelligenza artificiale quelle più avanzate dovranno essere implementate solo e soltanto secondo lui sugli iPhone Pro a salire quindi questo verrebbe da pensare a 15 Pro e 15 Pro Max il 16 Pro e il 16 Pro Max niente di 16 base niente 15 base per quanto riguarda però le funzionalità di intelligenza artificiale avanzate questo secondo report di Gurman ma appunto sono teorie e indiscrezioni e qualche voce di corridoio che farebbero presagire appunto questa cosa qua staremo a vedere vi farò sapere nei prossimi giorni invece dato che ci avviciniamo e mancano soltanto 5 giorni ragazzi all'arrivo della WWDC 2024 con le ultime presentazioni perché sarà mostrato AS18 Mac OS 18 Mac OS 15 e via dicendo ha fatto un importante recap Mac Rumors che ringraziamo in merito alle principali funzionalità e modifiche che vedremo appunto su iOS 18 andiamo per step avremo la possibilità di fare la trascrizione audio dei memo vocali ci saranno dei risultati di ricerca più intelligenti e di ordinamento migliorato ci sarà una versione più intelligente di Siri che sarà ispirata a quanto pare su chat GPT e avrà molti più controlli all'interno dell'app di cui Prokurman dice che molti di questi arriveranno probabilmente nel 2025 avremo possibilità di automatizzare molto più facilmente le scorciatoie ci sarà una nuova interfaccia quindi un miglioramento per quanto riguarda le impostazioni così dovrebbe essere molto più semplice la ricerca cercare determinate funzioni e via dicendo e sembrerebbe che verranno implementate anche nuove funzioni di accessibilità qualcuna già l'abbiamo vista per iOS 18 anche per coloro che hanno problemi di udito Safari sarà integrato con l'assistente di navigazione potrà riassumere le pagine web e ci sarà la nuova funzione di Web Eraser di cui abbiamo parlato nei giorni passati quindi andare a togliere delle parti di una pagina internet che non ci interessano mentre lo stiamo leggendo fotoritocco basato sull'intelligenza artificiale la possibilità di riassumere le notifiche generate all'intelligenza artificiale proprio nella sezione notifiche vi ricordo che ci sarà anche a quanto pare una rivisitazione del centro di controllo con un nuovo player per l'ascolto della musica e addirittura anche del nuovo in funzionalità per l'home kit per chi gestisce appunto le cose con i dispositivi tecnologici di casa ci sarà uno strumento di registrazione integrato e di trascrizione audio all'interno delle note ci sarà invece il supporto RCS all'interno dei messaggi ci saranno invece implementazioni di intelligenza artificiale anche sui tre dispositivi o meglio sulle tre funzioni o applicazioni principali di Apple per quanto riguarda la produttività parliamo di Keynote, Page e via dicendo ci saranno le risposte suggerite alle email proprio all'interno dell'applicazione grazie sempre all'EI a quanto pare avremo anche un redesign diciamo così della schermata iniziale perché potremo finalmente posizionare dove vogliamo noi le applicazioni quindi proprio le icone delle app in qualsiasi punto della griglia e potremo addirittura cambiare i colori delle applicazioni cosa che se ben vi ricordate si poteva fare prima soltanto con le scorciatoie sarà integrata una nuova versione di fitness rivisitata su iOS 18 ci sarà la nuova funzione scene per quanto riguarda Freeform ci sarà una nuova funzionalità alimentata dall'intelligenza artificiale per quanto riguarda la salute il calendario sarà integrato con il promemoria quindi non avremo più due applicazioni ma soltanto una nuove funzionalità e sembrerebbe proprio un nuovo redesign e direi finalmente della calcolatrice ed inoltre saranno le playliste generate automaticamente all'interno di Apple Music e anche dei riassunti degli articoli delle notizie generate dall'intelligenza artificiale nella sezione dell'Apple News poi su CarPlay ci saranno nuove funzionalità farò un video dedicato nei prossimi giorni di quello di cui si sta parlando ma probabilmente molte di quelle saranno legate soprattutto alla schermata appunto dei suoni e per finire appunto come vi ho detto ci sarà per quanto riguarda proprio la sistemazione e la gestione proprio dell'intelligenza artificiale proprio funzionalità aggiuntive in ogni varia piccola applicazione diciamo di default di Apple staremo a vedere quanto tempo metteranno e se quante arriveranno di applicazioni subito a rilascio di iOS 18 dei produttori di terze parti con le loro applicazioni perché comunque si aprirà un mondo intero questo ragazzi è il recappone che volevo farvi per quanto riguarda le funzionalità principali attese per iOS 18 la gestione e il rilascio di iOS 18 per quanto riguarda i dispositivi e dove arriverà l'intelligenza artificiale versione base e versione diciamo Pro per rimanere a tema dispositivi di Apple spero che il video vi sia piaciuto supportate un bel mi piace iscrivetevi se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video grazie a tutti